A me è stato dato un po' di potere in cielo e sulla terra. Andate e fate discepoli di tutti i popoli, battezzatevi nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, insegnando a noi a vivere con il Vangelo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, voi apostoli. E Gesù ha detto, battezzatevi, battezzatevi nel Spirito Santo. Grazie a tutti. 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 Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.